Sono stati restaurati, testati e attentamente controllati. Sono gli strepitosi diffusori acustici Infinity 9K, i migliori delle Infinity dopo le serie reference standard. Dal suono grandioso e naturale. In questa coppia sono stati sostituiti i mid-range con degli Scanspeak Discovery. Le prestazioni sonore sono esuberanti. Ci sono sette altoparlanti in ogni diffusore, di cui un Twitter posteriore. Erogano una grande dinamica, gamma media plastica, in alcuni casi di sconcertante veridicità, con voci e strumenti scolpiti sulla scena, con un'immagine di grande respiro, trasparenza da elettrostatica. Un discorso a parte merita la gamma bassa. Le 9K sfoderno, se presente nel programma musicale, un basso granitico, modulato, netto, senza rimbombi o fastidiose code e scendono parecchio. La casa dichiarava fino a 27 Hz, conferendo alla riproduzione una sensazione di grandiosità sconosciuta anche a diffusori più blasonati. Ottime le possibilità di controllo con quattro potenziometri che intervengono sulla sensibilità del Twitter, del SuperTwitter, del midrange e del woofer. Caratteristiche tecniche. Impedenza da 4 a 6 Ohm, per una potenza nominale da 60 a 340 W RMS. Una grande efficienza 102 dB, risposta in frequenza da 29 Hz a 45 kHz, più o meno 3 dB. Dimensioni sono molto strette, hanno poco spessore, solamente 20 cm, quasi delle elettrostatiche. Un'altezza di 151, una larghezza di 54. Le griglie sono in tessuto rimovibili praticamente nuove. Grazie a tutti.